Allora, si è trattato dei laboratori di ceramica e di restauro fatte all'interno del cantiere di Salviamo D'Anghelito. Questa iniziativa è nata, è stata accolta favorevolmente dalla scuola, è nata anche per avvicinare i ragazzi e far vedere all'opera. Ma proprio fargli vedere un'opera dal vivo, farla in qualche modo vivere e quindi entrare in contatto veramente con quest'opera. E far vedere come viene creata un'opera, come poi questa può essere restaurata, come può tornare a nuova vita.